salve a tutti gli amici di tech differente bentrovati ecco qua la nostra novità pensata appositamente per voi si tratta di un podcast che avrà cadenza settimanale di cosa parlerà questo podcast questo podcast parlerà delle notizie più interessanti più importanti anche che abbiamo trattato durante la settimana sul nostro sito internet nonché magari anche le recensioni quindi avrete modo di avere le ultime news e appunto se avete perso qualche qualche giorno o qualche articolo su tech differente avete modo di ritrovarlo tramite questo podcast che sarà un riassunto come ho detto in precedenza delle notizie più importanti che abbiamo trattato e questo format l'abbiamo pensato soprattutto sapendo anche che moltissimi di voi se non tutti sono impegnati sia per lavoro che per la scuola università eccetera e quindi magari non hanno sempre il tempo di controllare le nostre pagine ed andare a sfogliare a ritroso magari di qualche giorno anche per vedere articoli se ci sono articoli interessanti o quant'altro quindi abbiamo deciso di offrirvi questa possibilità tramite il podcast audio che vi toglie pochissimo tempo noi ci siamo proprio fissati una durata massima dei podcast di 10 minuti quindi poca roba che appunto vi terremo compagnia per 10 minuti almeno ogni fine settimana bene non mi resta che rimandarvi al nostro primo podcast ufficiale questo è un prologo di presentazione diciamo che perché avverrà ovviamente questo fine settimana se sarà di vostro gradimento ovviamente condividetelo e passate parola vi ringrazio per la cortesa attenzione e dal prossimo podcast